Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft della serie delle sette della stone block 2 Quest'oggi andremo... Uh, questo dobbiamo metterlo da parte, me l'ho completamente scordato Quest'oggi andiamo a fare una cosa di interessante Allora, dall'ultimo episodio ho migliorato un po' l'estetica della stanza qui, ho messo tutti i stone bricks, ho messo, cioè, ho messo marble bricks, ho messo le lampade Ho creato anche un'altra stanza qui di fronte, aspetta, vediamo se può spawnere gente Ok, non può spawnere nessuno, però un'altra torcia, io qui ce la metterei Vediamo un'inverted lamp Cattivissima Qua sopra, et voilà Ok, abbiamo creato questa stanza lunghissima perché voglio metterci dentro delle cose che abbiamo utilizzato tanto finora Ma che non Non abbiamo potuto craftare Sto parlando delle garden cloche, queste cosette qui, che sono davvero interessanti e davvero molto molto potenti Anzi, sono anche abbastanza sicuro di poterci mettere dentro Tipo Questi essence seed, tipo Il mio obiettivo è quello, quindi prima facciamo un controllino Vediamo se posso craftare un essence seed Da qualche parte Inferium essence Usage, voglio craftare un semino Posso? Eccolo qui Scherzavo, eccolo qui Inferium seed Me lo fai craftare per favore? Dov'è? Dov'è? Eccolo qua Perfetto, ora che ho un inferium seed che è quello base Vediamo se posso metterlo qua dentro Visto che funziona, ottimo Treated wood planks Perché anche per fare il vacuum cube Ho bisogno di Questa struttura Questo engineer's workbench che è semplice da fare Però ho bisogno di questo treated wood plank Come si ottiene? Allora È relativamente semplice Avevo bisogno dell'olio di creosot oil Non so come si traduce in italiano Come si ottiene? Si ottiene Attraverso o il co coven Ma noi non ce l'abbiamo E non vogliamo farlo perché è una struttura multi blocco E non mi piacciono moltissimo Oppure attraverso una redstone furnace con all'interno Un upgrade che si chiama Parolytic conversion Ed è quello che faremo noi Quindi andiamo a craftare come prima cosa Un Si, andiamo a craftare una redstone furnace Semplicissima Redstone furnace Aspetta vediamo se ce ne ho già una da parte Scherzavo ce ne ho una da parte Non mi serve neanche craftarla Quindi andiamo a creare il Pyrocoso augment Parolytic conversion serve un restaurant servo Ma ti dirò che forse ce l'ho già No non ce l'ho Va bene Poi ci servono un invargear E posso farlo e ce l'ho Mi serve il netherbic che l'ho appena craftato Perché ne ho solo uno tra l'altro Quindi che culo Copperplate posso farlo Ne facciamo un po' Perché serviranno magari un po' in futuro Ok Ne facciamo uno E siamo contentissimi Andiamo a creare anche un Flux point Perché dobbiamo Riricevere energia dal sistema Ok E siamo carichissimi Ora andiamo alla nuova stanza Mettiamo questo qui Con questo dietro Legato ovviamente sempre al network energia main Così riceve energia Grande carichissimo lui Andiamo Attenzione dobbiamo upgradearla Me l'ho completamente scordato Ora ho bisogno dei kit di upgrade Ne ho uno Ho due resonant Ma no Non voglio due resonant Un reinforce Posso farlo Cosa mi manca? Un silver gear Ma posso fare anche il silver gear Perfetto Così va anche più veloce Non abbiamo troppi problemi Ottimo Allora facciamo così Facciamo così Ora possiamo inserire il nostro augment Possiamo mettere anche un altro tipo Di upgrade che potrebbe essere a questo punto Andiamo a cercare qui dentro Non quello che Beh oddio processing speed Ci sta Facciamo questo qui Ok così va anche più veloce E può ottenere anche più energia Ora c'ha 80.000 RF Ora quando io cuocio i blocchi di carbone Ottengo un botto di questo tipo di roba Di cui ho bisogno Quindi andiamo anche a prendere Un fluidact Che dovrei avere C'ho anche quello pressurizzato Quindi facciamo i fighi E mettiamo questo qua E andiamo a creare un tank Ora non so se qualche missione Ce ne ha dato qualcuno in passato Ma potenzialmente sì No Invece no Quindi andiamo a cercare qui tank Ho bisogno di un tank Normalissimo in realtà Niente di basic fluid tank Beh questo mi sembra Prensanza sensato In realtà C'è qualcosa di più carino Ah poi c'è sempre la meccanism Che farebbe comodo Che io il metallic infuser ce l'ho Ci sono un botto di roba che potrei fare Che non mi costano neanche tantissimo Però partiamo da costruire uno di questi Che è un tank base E se vado a prendere un po' di iron ingot Quanti me ne servono? Quattro iron ingot Posso fare anche la versione extra Che è 28 secchi Vai facciamola che ci frega Quattro pezzi di ferro mi servono Metallic infuser Lo piazziamo qui cattivissimo E ci mettiamo C'è già un po' di redstone È lentissimo Ma ben uguale Ok possiamo craftare questo tank Spero che sia compatibile con I conduit della Della Ender IO Allora piazziamolo qui Ok Semmerebbe essere compatibile Qua vogliamo solamente inserire E qui vogliamo solamente Estrarre Perfetto L'energia la riceviamo Mettiamo un Ah questo è fighissimo Prendiamo una cesta E la trasformiamo in mini ceste Sono fighissime Perché ora posso prendere una mini cesta E piazzarla qui E con un Ender Conduit Fare una cosa abbastanza bella Quindi io prendo un Conduit Lo metto così Metto qui in insert E qui in extract Vado a creare dei Col block Facciamo Un paio di stack Tanto non è un problema Abbiamo infiniti Di pezzi di carbone E la mini cesta È una mini cesta Perché è piccolina E ha un solo slot Ci metto dentro 64 di questi E metto questo in input Quindi mettiamo da sinistra E il blu E dovrebbe ricevere i blocchi di carbone Ecco Ora piano piano Lui inizierà a cuocerli Sembrerebbe essere molto lento Tra l'altro Porca vacca Non pensavo Ok È lentissimo Però uno di questi Guarda se io vado a vedere Tra le cose Dove avere Reston Furnace Da qualche parte Ti dà 2500 Sono due secchi e mezzo A me per fare Un set di legno Quindi otto pezzettini Ho bisogno di un secchio Quindi con un blocco di carbone Faccio due set di legno Quindi 16 pezzi E' lente Cioè Per upgradeare ancora sto coso Upgradiamolo Proviamoci Più che altro E' vero che ho bisogno della B0 Per fare la B0 E' un casino Allora intanto posso Craftare questo Se mi permetti Perché posso farlo Quindi facciamole Facciamo un paio di queste E craftiamo questo pezzettino E ce l'abbiamo Ottimo Il vetro non è un problema Engineering Engineering Blueprint Che mi servirà E mi servirà anche Una Nickel Play Ok quanto fai L'ingegnere Summer Non ce l'ho Però ora ce l'ho Quindi uno problema Ci facciamo anche questo Ok ce l'abbiamo Forse vorrò farne di più di uno Di sti cosi Passiamolo un po' No errore Ah non è che io ce li ho Ma non Non gli do il tempo Di recuperare Con il talismano Anzi no Non li becca e basta Così prendiamo lemmer Posiamo tutto il resto Prendiamo un nickel Facciamo Lo fa fare? Me l'ha fatto fare Ah attenzione Ci siamo Abbiamo il nostro primo secchiettino Qua abbiamo un blocco di coil coke Che tra l'altro possiamo utilizzare Per questa struttura qui Il multi blocco Di questa zona La blast furnace Però per il momento Non ci serve E quindi se io prendo Un secchiello Faccio così Ho il mio secchiettino Vado a prendere Un po' di legno da qua Faccio così Faccio così E ho 8 treated pezzi di legno Lo faccio nuovamente E ne ho 16 E già è un inizio Li dammi il bucket Che non posso restare segno Ora prima cosa da fare Craftare sto coso Tritted wood fence Devo anche fare Ottimo Facciamo così Facciamo così Lasciamo questi qua dentro 1 2 1 2 Abbiamo le fence Ottimo Me lo fai fare per favore? Che fatica Dai Workbench coso Ce l'abbiamo Piazziamo da quest'altra parte Ok non volevo piazzarlo così Piazziamolo In un altro modo Voglio che sia dritto Oh cacchio L'ha preso Il vacuum Dove l'ha messo? Dove l'ha messo? Dove l'ha messo? Ecco Mannaggia me Piazzerò qui Alleluia Ok Ora mettendo questo qua dentro Mettendo Eh Buonanotte Vetro Nickel Redstone Ah uno di questi Facciamoci un paio di shears Prendiamo un po' di copper Ah no Serve la copper plate addirittura Ma ce l'ho Non mi freghi Un po' di redstone Ho fatto 130 nickel plate Forse ho leggermente esagerato Comunque se metto queste qua assieme Eh Ma come funziona? No mi sa che ho sbagliato a fare l'engineer's blueprint Devo farne un altro di sti cosi Quello lì Che fa quello che serve a me Quindi il vacuum coso Cette diverse Eccolo Vacuum tube Devo craftare questo io Guarda vedo anche gli oggetti qua sopra ma Perché non me lo da? Ah ok Se ne mettevo due di tutto me l'ha fatto fare Ok ora ne ho sei Va bene Oh Ottimo Ho un garden cloche Posso farne sei però Perché se io prendo un altro po' di sto legno Così posso farne tre Se ne faccio un altro po' di sto legno Dicevo Posso andare avanti e farne ancora di più La sei mi sembra un buon numero in realtà Perfetto Ne ho sei Dove le piazzerò questi sei? E tu mi dirai Boh E io ti dirò Che ne dite uno A fianco a ogni lampada Mi sembra un'ottima idea Voilà Abbiamo sei garden cloche Ce l'abbiamo fatta signore e signori Gang Se questo creosote oil ci servirà qualcos'altro D'ora in poi Però È già un inizio Ora questi nostri amichetti hanno bisogno di Acqua Sicuramente Non solo Energia Allora Attiviamo la modalità di volo E si fa così Si piazza l'alto verso il basso Perché altrimenti non lo fa piazzare Sarà un problema della mod del volo Che non ho ancora ben capito com'è che si utilizza Però Allora Colleghiamo tutto Lo collegheremo in questo modo Con un flux point qui nel mezzo Energia main Siamo collegati Tutti questi ora riceveranno un po' di energia Abbiamo poi bisogno di Acqua Allora Craftiamo un acquius accumulator Deve essere relativamente semplice Ok E Iron gear Devo craftarne un paio E ci siamo Un altro resto un servo Lo mettiamo da parte E voilà Ok Ora Vediamo un po' d'acqua da qui Che non è una brutta idea Lo mettiamo qui al centro Ok Ci siamo Non abbiamo bisogno di tanta gravità Qui perché tutto sullo stesso livello Qui possiamo usare I conduit quelli vecchi Senza craftarne di nuovi E fare una cosa di questo tipo Che in teoria dovrebbe andare Oh damn Ho sbagliato Che in teoria dovrebbe andare bene Mettiamo tutto in input 1 2 3 1 2 3 Questo lo mettiamo in output Questo lo mettiamo in input Input E input E dovrebbe iniziare a riempirsi d'acqua il tutto Più o meno Magari è un po' lentino però Dove funzionare Ok qua c'è acqua Qua piano piano Inizierà a diffondersi Forse deve mettere come output Round robin Non me lo fa fare Ah questi non sono anche collegati Ottimo Ora sono collegati tutti Così riceve tutto l'acqua Ah tutti contenti Perfetto L'altra cosa L'energia ce l'abbiamo L'acqua ce l'abbiamo Direi che possiamo iniziare A fare i semi Abbiamo bisogno dei semi Abbiamo bisogno degli inferium seeds Cioè dei supremum seeds Potrebbe essere un po' un problema Abbiamo 1500 di quelli Facciamo il tier di livello 2 Facciamo il tier di Non posso Ok Ho il tier di livello 3 Posso fare quello di livello 4? Ma col kaiser Incredibile c'è quello di livello 4 E per fare quello di livello 5 Che ha il su premium Che poi mai servirebbe tipo Non il su premium ma l'altro ancora Che non so come si chiama Me lo fa fare Attenzione Ho l'inferium seeds di livello 5 Per fare quello di livello 6 Avrei bisogno di un botto di questi Ma non ce li ho giusto? Non ce li ho Non ce li ho Non c'ho anche i blocchi? No Inferium block? Ma mai nella vita Perfetto Allora intanto vediamo Se possiamo piazzare questo qua da 5 Ok? Perché magari io sto facendo I conti senza loste Lo fa Lo fa Cresce Fa le sue cose E io mi ritrovo con l'inferium Ehm No Questo è un inferium seed Aspetta Stiamo calmi Voglio dire che produce più Non posso produrre il su premium Ma posso fare solo l'inferium E gli da 5 a botta Quindi è una questione di quanto inferium riesco a produrre Non c'è il su premium seed A quanto pare no Posso solo produrre tanto tanto inferium Ma ti dirò A me va bene Ora giro tutto Verso dietro Così questo è l'output Se ce la faccio Ora dovrebbe comunque riuscire a ricevere acqua In teoria Tipo vediamo qui Di c'è ancora acqua La riceve L'energia c'è Perfetto Devo fare un botto di questi quindi Poi prendiamo anche i conduit Anzi ne facciamo anche altri Dicevo Ne facciamo anche altri Colleghiamo l'output dappertutto Giusto? Sbagliato Perché l'output si fa solo da qua Quindi devo rigirare tutto Che palle Mi sono cominciato che questo invece è per tipo L'input Di redstone Anzi neanche Perché quello sotto è quello dell'input di redstone Vabbè Noi mettiamo tutto assieme E ciò che succede succede No allora vedi che abbiamo un problema Perché Solo dal lato Cioè solo dal lato A posto Contento tu Contenti tutti Eh allora però mi prendi per il culo Perché qua ma non funziona Non capisco No c'è Perché a volte mi fa l'output E altre volte no Perché qua mi da l'output qui E qui invece no Potrebbe essere un po' un casino questo signori Allora vediamo se lo metto proprio dietro dietro Se funziona uguale Prendiamo una mini cesta che mi fa ridere E la mettiamo qua sopra Così posso cliccare il coso Senza problemi Vediamo se lo manda in output Oppure no Insert No Come volessi dimostrare non lo dà in output Allora intanto Craftiamo 5 seed Di livello 1 Vediamo quanto riescono ad andare avanti Quindi craftiamo un tot di questi Quanto posso Non troppi E facciamo quelli di livello 2 1 2 3 4 5 Ok Ora che ho fatto i 5 di livello 2 Vediamo quanti di livello 3 riesco a fare Non molti Non molti Se non riesco a farmi Sennò 1 2 Però preferisco fare tutti assieme Quindi facciamo 1 alla volta Mettiamo per il momento quelli di livello 2 Oddio che mi daranno 2 inferi Il volume avvolta Ma a me va bene uguale Ok E ora è tutto operativo Alla grande Signore e signori Per questo video è tutto Io vi ringrazio tantissimo per visione Ci vediamo domani alle 7 Con il prossimo episodio della 6 N7 E niente Ciao a trututututti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti